Non c'è dubbio che Feltre, uomo di ieri e di oggi, sarà anche uomo di domani. E affezionato al suo ruolo di abrasivo, di irriverente, non mollerà. E poi cosa farebbe senza la gente, senza quei lettori che si fidano di lui, della sua chiarezza e della sua onestà? E che sono, come Feltre dichiara, i suoi padroni. Se lo dice Farinotti rischio anche di crederci, però non del tutto. Grazie.